buongiorno ragazzi sono itz garelli e qua con me c'è morte 97 bella cc bella cc non te l'ho mai sentito dire questo è il terzo episodio della nostra serie su minecraft e allora avevamo promesso un aggiornamento sulla situazione abbiamo esplorato e vi faccio vedere che cosa abbiamo trovato grazie alla miniera che avevo fatto vedere il video precedente dalla mia parte ora abbiamo io nel mio inventario ho 32 di ferro non so vabbè poi ho 3 di oro 23 di redstone e 25 di lapislazzoli 3 semi di oh mio dio semi di zucca e 3 semi di anguria a parte 5 trovati in una cesta in un dungeon ho trovato anche del pane e niente la situazione è più o meno la stessa stiamo esplorando di nuovo questa questo crepaccio nella terra non trovo mai strano questo crepaccio perchè ho già trovato 32 di ferro merda ma che buco c'è qua cazzo vieni qua vieni qua dove 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 tornare indietro ora quanto far c'è c'è il pieno di ferro stante con un casino di ferro staggiano perché possiamo poco a ah sì però che l'ho pensavo così po' o mio dio ma non la prima azione mi dice più islazoli ne troviamo talmente tanto che ormai non è neanche più una cosa quanto fermo conto ferro che troviamo allora per me la stasso di lo prendiamo massima da quanto ne hai la bislastoli perché te ne ho un po' dai il mio non ti preoccupo e magari un po' di carbone perchè c'è per cuocere senta lontan il lavoro un po' altro la bislastoli palle abbiamo bisogno di diamante se non usciamo dalla caverna noi non usciamo finché non lo siamo io sono lì a luci baston a livello che ho capito a pensavo se per finire i piccoli anch'io lo so per finire questo è il bambino questo è il bambino l'estate del cazzo mi sta più sul cazzo l'acqua che la lavo l'acqua sarebbe per dirlo l'acqua sarebbe per dirlo l'acqua possiamo andarsene guarda io ho ufficialmente finito no non ho finito niente se ti chiede con la balla ok prendiamo le torci prima d'andarci in parte ci sono un po' di torse infatti per me se non ho posto io fate 50 12 che basteranno si io ho 52 anch'io adesso lo scopre nel carbone vediamo dai redstone dai facciamo qualche circuito l'acqua e la janezza 23 adesso quanto non saremo voi adesso ne ho 13 14 15 16 16 16 19 20 l'ultimo spegnere po' le lucia a mano non le stai prendendo dai presente no ai bambini e l'ultimo chiude la porta l'ultimo spegnere po' le torse qua direi che avevo visto una bella colata molto interessante nella una colata di lavane crepaccio e da quella qua direi che ci andiamo incontro come dei veri pro a morire bene direi che una volta morti può finire la serie perché io non ricomincio no dai no questo no mi dispiace ma io non ricomincio una volta che moriamo lei ma io non mi fido passare per di qua ascolta mettiamo io vado giù e faccio il pezzo di prima per ritornare un bello scheletro no dai vieni qua oh no io non posso perdere e che robbie che fanno sai cosa mi faccio ora adesso mi faccio del stl prendo l'acqua e la lava così per fare senza una ragione a random certo che noi siamo proprio degli infami siamo andati via siamo andati via dalla casa e non abbiamo preso niente infatti oh sali su qua dove devo salire per tornare a casa ma che per tornare a casa non ci torniamo più a casa dai qua c'è la lava io c'è la lava poi al massimo mi teletrasporto da te si mi ti trasporti direttamente da me che c'è sopra l'acqua è vero oh che due palle e sta acqua qua la caverna si fa sempre più insidiosa c'è colate di acqua colate di lava qua c'è un carbone ma i miei questi episodio diventeranno tutti scavatrici da scavatrici e scavatrici no ho trovato della roba in italiano ma si o lo sai che siamo vicini a fare cose ah no siamo ben lontani da fare con la la meladoro perchè non servono i lingotti d'oro servono i blocchi d'oro servono i liti pt e pt si devi prendere il cubetto di di oro e craft al diventare le pipite d'oro no io avevo capito che servivano proprio i cubi d'oro no no siamo in le pipite d'oro devi craftare l'oro io non l'ho studiato quindi non mi ci sono messo sopra oh qua è infinita sta caverna io fossi in te verrei ecco guarda qua è pieno zeppo di ferro è rischioso per la lava ma è pieno zeppo di ferro si ma ne ho 42 di ferro ehi quanto oh stop fermati oh stai per morire calmati sto moriando tanto ferro specialmente finito il piccone di ferro pure io bene sono messi bene allora allora io ho abbastanza ferro solo per farmere un altro abbiamo un po' di legno io sì io sono pieno zeppo di legno ho fatto la crafting table per sicurezza io l'ho fatta la crafting table e poi di dirmelo prima cazzo ma l'avevo detto prima che io volevo farmi i secchi per fare qua qua si sale si sale ah no la si sono già andato io non si va da nessuna parte io non lo prenderei sto farro paura di cadere nella lava ah sto prendendo il carbone si sa male e ricordiamo già abbastanza di farlo io scendo di qua eh inoltre nelle caverne iii mamma mi diciamo pensa a te a minecraft senza le torce sai che giorno e da qua si esce ho uscito c'è pure una piccola mi sembra oh usciamo anche senza diamante eh io non sto a farmi problemi mi dispiace a me poi durante ragazzi al a che bisogno siamo a 4 al terzo al terzo solo al terzo episodio solo al terzo episodio sì è vero eh sì al terzo episodio tra l'altro è ora di finire il video oh 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 dove va qua dentro l'acqua eh fammi fare il piccone ragazzi al terzo episodio si esce dalle finalmente dalle miniere wow è stato osservato mi che mi ha droppato una spada di ferro uno zombie si micifico ho 64 di ferro prendiamo la pista sui la pista la pista la 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 sua raga 64 di ferro grizzo luce finalmente no io sono solo due non ti faccio così 45 di grezzo e i due di il voto ci vediamo dopo su si si adesso saliamo così io a che cazzo non sa che il mio mouse massacrato c'è il ferro c'è un casino oddio sei arrivato su oh c'è mio mouse che va va impazzito come va impazzito io non vedo niente aia cazzo sto morendo dalla fame non me ne raccordo il mio mouse che era impazzito allora la mia campagna dobbiamo uscire scolta io esco dall'acqua c'è un bel scritto sotto cazzo ora salvo mi sono fatto male e non sai come ma che si rischia di morire devo uscire con mezza farsa un po' di sabbia che cosa facciamo i veti allora andiamo su che non ne posso più di di sta caverna sai che poi prima c'era un bivio non c'è sicuro che mi credo sulla sabbia per me non conviene lo so posso adesso io mi prendo la mia bella scala e secca di destino e non si bestemmia fuori fuori per fortuna non ci devo assaporare anch'io questa cura un po' non c'è non c'è devo solo scavare qualche altro blocco sono poi sono fuori adesso mi cade la sabbia d'osso e muoio ah 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 stai scherzando ma stavo per cadere ma stai per cadere giù nella caverna basta che mi chiamano spaccato il piccone di ferro ne voglio più sapere oh guarda dove siamo ah no non siamo dove pensavo che cazzo ho preso un po' di sopra c'è il mouse che mi va impazzito oh guarda che cosa c'è eh qui ho ancora capito quelle costruzione ragazzi ci potete dire una spiegazione come non ti ricordi all'inizio quando abbiamo iniziato quando abbiamo aperto server no quando abbiamo aperto il server questa cosa eh che si stavamo preparando bene ragazzi nuove scoperte sono appena giunti i 10 minuti o li abbiamo appena superati non lo so ed è per questo che mentre distruggiamo la mia vecchia costruzione di fango e merda vi saluto ragazzi vi salutiamo itz garelli e da morte97 il vostro vez preferito bella raga